Grazie a tutti. E' un incontro tra il sindaco Bruno e Monica Pulina che nel frattempo ha ricevuto ulteriori attestati di solidarietà. E proprio Monica Pulina con il collega del gruppo misto Alessandro Nasone tornano sul futuro del centro residenziale anziani criticando il bando pubblicato dall'amministrazione con errori che, dicono, possono costare caro autenti e cittadini. Abbiamo intervistato alcuni studenti del liceo scientifico che nei giorni scorsi, in occasione dell'Open Data Day, hanno presentato a Qualtè un loro progetto sul porto di Alghero. Ben ritrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando del Consiglio Comunale. Come avete visto dei titoli, si torna in aula, quindi questo pomeriggio si riunisce nuovamente il Consiglio. Archiviate, o meglio, si spera, le polemiche legate al piano di valorizzazione, soprattutto allo scontro verbale fra il sindaco Bruno e Monica Pulina del gruppo misto. Quest'oggi, fra i punti da affrontare, dovrebbe esserci anche l'elezione, tra l'altro, della Commissione Pari Opportunità. Sul punto relativo al piano di valorizzazione ci sono da registrare intanto ulteriori interventi, sia dei vari comitati dell'agro, che si sono detti delusi per il provvedimento adottato lunedì, sia quello di altre forze politiche, come Azione Alghero e Forza Italia, con il coordinatore cittadino Andrea De Lou, che tra l'altro hanno solidarizzato con la Pulina. A proposito del piano di valorizzazione, i forzisti hanno organizzato un incontro aperto a tutti per lunedì 13 marzo, a partire dalle 18.30, nella sede del centro commerciale Ferroni. Provedimento che non potrà, in alcun modo, ottemperare le esigenze dell'agro algherese, fanno sapere dal partito azzurro. Nell'occasione verranno illustrate le motivazioni che potrebbero invalidare la delibera, causando l'annullamento del variante. All'incontro parteciperanno i tre consiglieri Nunzio Camerada, Michele Paese e Maurizio Perisi, oltre al coordinatore cittadino Andrea De Logo, è previsto anche un intervento del consigliere regionale Marco Tede, ma l'incontro, fanno sapere da Forza Italia, ha aperto anche contributi di coloro che parteciperanno. Ed è voluta tornare sulle polemiche relative all'approvazione del piano di valorizzazione, ma anche per lo scontro tra il sindaco Bruno e la Pulina, anche Maria Grazia Salaris, del nuovo centrodestra. Sentiamola. Oggi si torna in Consiglio Comunale, dopo polemiche tantissime sul piano di valorizzazione e anche su un episodio che vi sono protagonista, consiglieri di opposizione, Monica Polina. Sì, sul piano di valorizzazione io insieme ai altri consiglieri comunali di opposizione abbiamo lasciato l'aula perché il testo unico degli enti locali definisce insomma quelle che sono le incompatibilità relativamente alle votazioni, soprattutto in materia urbanistica. Questo piano è passato in maniera forzosa da parte della maggioranza con soli 13 numeri e la testimonianza e il fallimento totale di Mario Bruno, l'incapacità comunque di pianificare col territorio che ha visto poi addirittura la richiesta da parte dei comitati di Borgata del ritiro del piano in autotutela. Io credo che su questo ancora ne vedremo delle belle perché penso che insomma saranno messe in campo delle azioni per mettere l'amministrazione in condizioni di ritirare un piano che non valorizza niente ma soprattutto non dà nessuna prospettiva agli agricoltori così come dovevano essere invece le finalità. Sulle polemiche invece legate all'episodio che vi sopporto venisse Monica Polina avete espresso tutti solidarietà, quasi tutti. Sì, ma guardi, più che solidarietà io direi che bisogna ripristinare all'interno di quell'aula il vero senso delle istituzioni. Mario Bruno fino a oggi ha dimostrato di essere purtroppo per la città di Alghero un sindaco senza nessuna autorevolezza. Interviene in aula spesso in maniera scomposta, alimenta lo scontro, non riesce a rispettare il regolamento. Io ho avuto esperienze con un altro sindaco, che è l'ex sindaco di Alghero, Marco Ted, che interveniva sempre alla fine del dibattito. Non ho mai assistito a scontri verbali come quelli sui quali porta sempre la discussione Mario Bruno, che sono proprio il sintomo dell'incapacità a tenere il controllo dell'aula ed essere il primo cittadino. La consigliera Polina stava esprimendo il suo parere relativamente alla delibera in oggetto di discussione, sia accalorata, ma così come spesso capita, ogni consigliere comunale che in aula si sente in qualche modo colpito o offeso qualora ci fossero degli episodi di questo genere può chiedere di intervenire per fatto personale. L'aula viene trasformata in un ring da un sindaco che continua a dimostrare assolutamente incapacità nel governo, innanzitutto delle sue parole, quindi immaginiamoci come sta governando la città. E tornano sul futuro del centro residenziale Anziani di Alghero, proprio due consiglieri comunali del gruppo misto, Monica Pulina e Alessandro Nasone, alla luce soprattutto della pubblicazione del bando per la gestione del centro, in scadenza il 20 marzo. Il capitolato d'appalto prevede la gestione per un periodo di due anni, più due di eventuale proroga. Sentiamo l'opinione proprio dei due esponenti di opposizione. Siamo coscienti che questa gara d'appalto sia la strada più veloce per evitare un'unteriore proroga di mesi all'attuale gestione del centro, che ricordiamo in proroga ormai da anni, ma certamente non possiamo ritenerci soddisfatti della strada che l'amministrazione Bruno ha deciso di percorrere per gestire una ricchezza della nostra città. Così Monica Pulina e Alessandro Nasone esordiscono nella nota, nella quale rimarcano nuovamente come la soluzione del project financing sarebbe stata migliore, perché, sottolineano, sarebbe stato in grado di fornire una ristrutturazione adeguata, nuove attrezzature e soprattutto un luogo confortevole dove ospitare non solo gli anziani della nostra città, ma anche altri tipi di pazienti che magari nel centro possano trovare sollievo. Ma tant'è, questa amministrazione poco avvezza a raccogliere suggerimenti, soprattutto se questi arrivano dai banchi dell'opposizione. Allo stato attuale, proseguono Nasone Pulina, ci dobbiamo accontentare di una gara d'appalto pubblicata in tutta fretta con un capitolato che secondo noi nasconde errori, i quali, se non corretti, possono produrre danni o un innalzamento dei costi alla collettività. Nell'articolo 13 si dovrebbe parlare di dotazione minima di personale, mentre nella realtà l'articolo è molto generico e non entra mai nel merito dei numeri di personale che dovrebbe assistere gli anziani, lasciando alla progettualità delle cooperative o aziende interessate la scelta di quanti professionisti assumere. L'unico paletto inserito sono le 9.880 ore di lavoro infermieristico e le poco più di 1.700 ore per i fisioterapisti. Noi avremmo fatto una scelta differente, legandoci alla delibera 3426 della Regione che definisce i parametri minimi del personale nelle strutture sociosanitarie. I paletti, quando si tratta di assistenza alla persona, devono essere chiari e non interpretabili e in questo caso, secondo i due consiglieri di opposizione, sono totalmente lasciati alla volontà progettuale di coloro che presenteranno le offerte. A dar criticità, la troviamo nell'articolo 17, lettera G, in cui si dice che al comune rimangono gli oneri relativi al pagamento delle utenze gas e luce, acqua, gasolio e telefono, oltre che pagamento del canone TV. Non c'è che dire un bel risparmio di circa 100.000 euro annui per l'azienda che vincerà l'appalto, ma che rimarranno sul groppone dei cittadini. In un momento in cui i comuni si ritrovano in ristrettezze economiche, ogni euro è fondamentale, troviamo incomprensibile che un comune decida di accollarsi le utenze di una struttura data in gestione. Ormai, precisano Polina e Nasone, tutti gli appalti di strutture similari, i comuni inseriscono nei capitolati la clausola che le utenze siano a carico dell'appaltatore, anche per evitare lo spreco delle risorse energetiche e un loro miglior utilizzo. Non si entra neanche nel merito, poi, se non in termini generici, degli investimenti sulle tecnologie e dispositivi sanitari, come il rinnovo del parcoletti, che sono ormai vecchi di decenni e fuori norma. Questi, per noi, concludono, sono errori che possono costare caro, errori che pagheranno sia gli utenti che i cittadini. Una struttura come il centro residenziale anziani meriterebbe un'attenzione maggiore, soprattutto un piano per il suo totale utilizzo e il suo definitivo rilancio al servizio della collettività e dei nostri anziani. Questo capitolato non prevede uno sviluppo del centro, ma solo una conservazione dell'assistenza attuale. Vigili del fuoco, senza pasti e docce calde, la denuncia arriva tramite una dura nota dalle organizzazioni sindacali. CISL, UIL, CGL, CONAPO e CONFSAL, che parlano di ennesima problematica scaturita dalla pessima gestione del comando provinciale di Sassari, più volte denunciata a tutti i livelli, ma che continua a rimanere inascoltata. L'ennesima inadempienza, scrivono, si è verificata dalla settimana scorsa, dove a seguito delle regolari richieste non è stato acquistato da parte del comando il GPL per uso sanitario e cucina. Il personale del distaccamento cittadino di Alghero non ha avuto la possibilità di fruire di una doccia calda al termine delle 12 ore di servizio, nonostante fosse in corso un super lavoro da parte dei colleghi impegnati negli interventi dovuti al forte vento che ha spazzato la città. Analoga situazione spiegano in una nota i rappresentanti sindacali Michele Spanu per CISL, Davide Corvedo, UIL, Roberto Maninchedda della CGL, Pietro Nur, CONAPO e Salvatore Sanna, CONFSAL, per il distaccamento aeroportuale dove, sempre per il mancato acquisto del GPL da parte del comando, non si può confezionare la mensa di servizio. Purtroppo questo genere di problematiche si sta presentando su tutto il territorio. Sono recenti infatti casi analoghi a Darzachena e al distaccamento Costa-Smeralda, rimasto per circa due settimane in pieno, inverno senza riscaldamento. Consenso di responsabilità, solidarietà e lanciando una forte provocazione a dirigenti e alla catena di comando, proseguono Non abbiamo esitato un attimo e abbiamo acquistato e distribuito le bombole di GPL e colleghi in servizio nei distaccamenti. Fanno sapere i rappresentanti sindacali che hanno denunciato anche la cronica carenza di personale e mancati i pagamenti delle prestazioni straordinarie del personale delle emissioni bloccate dal 2015. La situazione, concludono sempre i sindacati, è al collasso e se non si risolverà breve non esiteremo a portare in piazza sotto la prefettura tutto il personale del comando. Ora ci fermiamo per una prima pausa pubblicitaria. Da Santana fanno sapere che sono possibili alcuni disagi nell'erogazione idrica ad Alghero a causa di problemi alla cabina elettrica che alimenta il sollevamento dell'acqua grezza per diversi impianti di potabilizzazione, tra i quali quello di Monte Agnese. Da ieri l'erogazione garantita dalle scorte dei serbatoi a Banoa fa sapere che ancora non si conoscono i tempi di ripristino della fornitura da parte di Enas per cui in funzione delle ore di mancata erogazione del potabilizzatore saranno programmate di conseguenza le necessarie regolazioni o chiusure dell'acqua. Start-up ufficiale previsto per domani per l'Info Alghero. Un nuovo ufficio delle informazioni del comune di Alghero con sede in centro città inizialmente posizionato al piano terra del Qualtè in Largo San Francesco per poi essere definitivamente allocato nell'immobile comunale dell'ex casa del caffè in via Cagliari. Non solo URP ma anche informazioni turistiche, indicazioni di viaggio per visitatori e consigli per il soggiorno dei vacanzieri. Tutto in quattro lingue con l'utilizzo di alte professionalità e un rinnovato sistema di comunicazione tra uffici. Un luogo d'incontro tra amministrazione e cittadini con un front office con funzioni di filtro rispetto ai servizi comunali e un'attività di back office di ricerca e documentazione, implementazione e banche dati, rilevamenti, attività di comunicazione e promozione. Numerosi servizi che saranno erogati come rilascio modulistica, informazioni sulle pratiche amministrative, gli uffici, raccolta segnalazioni e reclami, rilevazione statistica dell'utenza, gradimento della qualità dei servizi e ancora primo orientamento sui servizi erogati dall'ente. Altrettanto importanti le numerose indicazioni turistiche fornite. L'info al Ghero sarà il punto di riferimento per i cittadini come per i turisti, accessibile a tutti, aperto quotidianamente e facilmente raggiungibile grazie alle indicazioni segnaletiche e direzionali che saranno installate nei principali varchi del centro città. Alcuni giorni fa abbiamo parlato nel nostro telegiornale del progetto Gianna De Mare portato avanti da una classe del liceo scientifico Fermi presentato alla città in una conferenza sabato pomeriggio al Qualtè. Stamani siamo andati a realizzare alcune interviste nella scuola. Cominciamo con Costantina Cossu, la professoressa referente del progetto. Questa mattina al liceo scientifico Fermi in compagnia della professoressa Costantina Cossu referente di un progetto che si chiama Gianna De Mare che è stato presentato sabato pomeriggio con una conferenza stampa che ha avuto un grande seguito di pubblico. Ne vogliamo parlare? Certo, gli alunni si sono preparati adeguatamente. Il progetto è un progetto a scala nazionale e diventerà anche un progetto europeo. È un progetto che lavora su quelli che sono i dati aperti. Gli alunni hanno la possibilità di controllare, di scegliere un progetto, di controllare tutto l'iter progettuale, quindi di vedere con quali fondi è stato finanziato, di vedere come è strutturato il progetto e di vedere anche l'applicazione del progetto. Diciamo che è un'analisi costruttiva che serve a sviluppare in loro tante competenze trasversali che le serviranno non solo in ambito scolastico ma anche nella vita futura. E quindi come va avanti? Avete presentato poi adesso che cosa, qual è l'iter? L'iter è formato da cinque fasi, cinque steppe e hanno completato il terzo steppe. In questo steppe era proprio compreso la strutturazione, insomma, l'ideazione di un evento pubblico in modo da coinvolgere non solo loro, la prima persona, e la comunità scolastica che è stata coinvolta con altri eventi nella mattinata, ma di coinvolgere la comunità, di far conoscere alla comunità il loro lavoro e in prospettiva futura loro in effetti con il loro lavoro stanno anche progettando il loro futuro perché nello studio del Porto si sono viste tante criticità ma anche tante potenzialità che domani potrebbero creare tantissimi posti di lavoro e di evitare la fuga di cervelli dal nostro territorio. E allora sentiamo proprio gli studenti che ci hanno spiegato nei particolari di cosa si sono occupati. E adesso con gli alunni che sono i veri protagonisti alla fine di questo progetto, Gianna De Mare, siamo in compagnia di una delegazione della terza A, in compagnia di Silvia e di Federico che ci raccontano perché hanno voluto partecipare a questo progetto intanto. Abbiamo visto nel progetto ASOC un'ottima opportunità di crescita personale e un ottimo strumento per migliorare il nostro futuro. In particolare ci siamo voluti concentrare sulla colonna portante della nostra economia cittadina, ovvero il turismo, andando a puntare su un settore che è quello portuale che può dare grandi spazi e grandi possibilità, può dare soprattutto una marcia in più all'economia cittadina. Per questo abbiamo deciso di partecipare a questo progetto e di chiamarci Gianna De Mare che proviene dalla lingua sarda e significa porta del mare. Rappresenta appunto l'idea di apertura al progresso economico che noi vogliamo dare con questa esperienza. E allora Silvia, come avete lavorato? Che cosa avete portato avanti? Allora intanto ci siamo divisi in gruppi per abilità, quindi per distribuire meglio il lavoro e poi abbiamo iniziato con la ricerca, quindi ci siamo focalizzati sul progetto di ampliamento e razionalizzazione del porto di Alghero e quindi abbiamo iniziato a cercare dati sia su internet e poi rivolgendoci poi agli enti locali, quindi coinvolgendo Comune, Capitaneria di Porto, il Consorzio e altri. E quindi sì, per ampliare sempre di più le conoscenze in proposito. Nuovo riconoscimento internazionale per un prodotto dell'agricoltura algherese, il vermentino blu, vermentino di Sardegna Dock della cantina Santa Maria La Palma ha ricevuto una medaglia d'oro al Berliner Wine Trophy 2017. Il concorso internazionale di vini più importanti della Germania, svoltosi nell'hotel Am Borsig Turn di Berlino nell'ultima settimana di febbraio. La giuria del concorso, formata da enologi, esperti di vino e sommelier di caratura internazionale, ha sottoposto oltre 5.000 vini provenienti da tutto il mondo a una procedura di valutazione particolarmente severa, durata 4 giorni. La medaglia d'oro assegnata al vermentino blu rappresenta un premio che affonda le sue radici nella qualità dei vigneti del territorio di Alghero e dintorni, curati con dedizione e attenzione dagli oltre 300 soci che fanno parte della cooperativa a cui si uniscono dipendenti, collaboratori e il management che gestisce l'intera azienda. Il presidente della cantina Mario Peretto ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto dedicando il premio all'intero territorio di Alghero e della Sardegna. Peretto ha voluto inoltre evidenziare come questo riconoscimento rappresenti un nuovo importante passo verso uno degli obiettivi principali dell'azione della cantina, promuovere Alghero, il suo territorio e la Sardegna stessa a livello internazionale facendo conoscere le bellezze, i prodotti e i sapori di un luogo unico ricco di eccellenze. Lo facciamo da anni, vogliamo continuare a farlo con sempre più forza in tutto il mondo. Poi aggiunto il riconoscimento ottenuto a Berlino costituisce un ulteriore tassello nella promozione del vermentino di Sardegna in Germania e a livello internazionale. Questo premio si sono agli altri ricevuti dall'azienda nell'ultimo anno solare. Ci fermiamo ancora per qualche istante. Abbiamo raccolto lo sfogo di Tonino Alfonso che chiede da tempo di poter esporre ad Alghero. Ai nostri microfoni ha lanciato anche una proposta, visto che ha protocollato una richiesta, quella di installare delle proprie sculture nelle basi delle palme che sono state abbattute in città. Sentiamolo. In compagnia di Tonino Alfonso che nei giorni scorsi ha lanciato una proposta sui social che ha fatto anche discutere, se vogliamo, di cosa si tratta? Beh, oltre 5.000 visualizzazioni, commenti vari. La proposta che io ho fatto, devo fare una premessa, era una protesta proposta. Chiudo un attimo l'argomento protesta, molto semplicemente è da quando questa amministrazione che si è insaurata, che io non ho spazi in questa città. Ovvero, l'avevo al momento del suo insediamento, mi è stato tolto, oppure mi è stato dato un altro posto, tanto per zittirmi, per dare pure l'attore ad altro artista. Questo per me non è corretto perché non ci sono artisti bravi o meno bravi. Gli artisti li giudicheranno la storia, però questo è il modo con cui sta operando questa amministrazione. Io da artista, da cittadino di questa città, per quanto non ho votato questa amministrazione, ritengo che il sindaco deve governare con il buon criterio di parte di famiglia e dovrebbe trattare tutti allo stesso modo. Io non ho mai avuto risposta alle mie richieste. Volevo anche creare un paesaggio sardo in miniatura, con tutte le muraglie di Alghero, con le torri, il porto, per regalare alla mia città, anche come mio ricordo in futuro, come esistono in altri posti, a Tormina, non c'è posto, mi è stato detto. E l'ho realizzato nel Medo, dove mi hanno dato invece il Consiglio Comunale. Chiudo con la protesta. Naturalmente aspetto una risposta al protocollo che ho fatto stavolta per questa proposta che invece voglio fare all'amministrazione tramite, in questo momento, Catalan TV. Per cui pretendo una risposta, altrimenti agirò di conseguenza, ma lo spiego in due parole se posso. Ecco, parlaci di questa proposta che hai fatto. Ok, la mia proposta è che vedendo dal mio ufficio che sta in via Vittorio Emanuele, via Lofrasso, le palme che sono state segate e tutte quelle che sono in città al centro, mi chiedo cosa possa pensare uno turista quando viene. Diamo, questi non ammano le palme oppure le usano come sgabelli. No, le palme sono state aggredite da un esserino che le ha, come Davide Golia, le ha buttate a terra. Allora io cosa dico? Diamo vita alle palme. Io dico che noi artisti, i giovani di Alghero, i ragazzi delle scuole, i ragazzi dell'architettura, artisti, anche qualunque cittadino o artisti esterni potrebbero, potrebbero con un'organizzazione a parte del comune, quindi con un bando, partecipare all'evento che io propongo, quello di dare vita alle palme installando sopra le palme delle sculture. E ho portato una scultura, tutti riconoscerete, Marre Teresa di Calcutta. Queste sono le mie sculture che possono piacere o possono non piacere. Non è l'amministrazione di questa città che decide se io avrò un futuro come artista, lo deciderà la storia. Allora io pretendo come cittadino di avere uno spazio, come ce l'hanno tutti quelli che hanno fatto le richieste. E stavolta, visto che non ho avuto lo spazio, me lo creo posizionando la mia scultura su una delle palme. Non so che reato andrò a fare, direttore. È pronto a fare quest'atto di posizionare le proprie sculture, se non avrà una risposta dall'amministrazione? Naturalmente io vorrei farlo organizzato con l'amministrazione, vorrei dare una mano, vorrei che partecipassero tutti, vorrei che questa fosse un'iniziativa che parta da subito in modo che tra massimo un mese sia già operativa, cioè un museo a cielo aperto. Queste opere rimarranno quindi a bella vista dei nostri turisti, altrimenti, e chiudo, io dico qua, e non me ne nego, e non assumo responsabilità, che piazzerò una delle mie sculture su una delle palme e poi vedrò cosa succede. Magari farò qualche reato di cui non sono a conoscenza, però sono pronto a combattere per le mie idee e per le mie azioni. Vediamo con una notizia di sport, domenica scorsa si è svolta la seconda edizione del Trail del Marganai, la corsa podistica di 17,27,47 km con un dislivello positivo di 1200 metri, si è svolta nella provincia di Carboniglesias, appunto nella foresta del Marganai, ricca di suggestivi percorsi, nonché di numerose specie fonistiche, specie endemiche di piante, siti di archeologia antica e archeologia mineraria, oltre a salite e discese che hanno impegnato non poco tutti i partecipanti. Fra i trailers schierati alla partenza sulla distanza di 27 km, anche alcuni runners dell'Atletica Ginnasio Malguero, Santino Satta, Samuele Cucchi, Gianni Meloni e Andrea Fonnesu, che hanno portato a termine la pesante prova, dando dimostrazione di un'ottima preparazione fisica e mentale che una competizione di questo tipo richiede. Da segnalare che il ricavato delle iscrizioni del 2017 alle gare sarà devoluto per l'acquisto di beni da devolvere ai reparti pediatrico e chirurgico del presidio ospedaliero di Iglesias. Con questa breve notizia di sport chiudiamo l'edizione di oggi del nostro telegiornale Ora il Meteo. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.